ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi ho per voi la nuova collezione primavera estate 2020 di la fam che si chiama oriental escape ed è ispirata dai colori dei paesi orientali un viaggio che ci porta dai tramonti della cappadocia fino alla fioritura dei ciliegi in giappone la collezione si compone di sei colori di cui cinque con formula ultra hd si possono acquistare singolarmente oppure acquistando la collezione intera in pratica uno smalto risulta in omaggio vi ho parlato di formula ultra hd cosa vuol dire tutti gli smalti semi permanenti con questa formula sono iperpigmentati autolivellanti e coprenti e potete riconoscerli dal bollino presente sul tappo detto ciò vi lascio alla stesura su tip dei colori un po' di 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi risultano davvero molto coprenti e si stendono una meraviglia senza lasciare striature. Mi sbilancio dicendo che per ora è forse la mia collezione preferita in assoluto di La Femme. Tutti i colori mi piacciono da impazzire e trovo che stiano anche molto bene insieme. In onore della festa delle donne acquistando sul sito fino all'8 marzo riceverete un olio cuticole scelto in modo casuale tra le varie fragranze disponibili e fino ad esaurimento scorte. Vi lascio tutti i link nelle info del video e scrivetemi nei commenti quale colore vi è piaciuto di più. Grazie per aver guardato il video, vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ciao!